Enormi masse di gas, stelle in formazione, giovanissime ma anche mancate come le nane brune, dischi di polvere dove si stanno creando nuovi pianeti. Sono solo alcune delle meraviglie astronomiche che si trovano concentrate nella nebulosa di Orione, nell'omonima costellazione che domina il cielo di dicembre e ben visibile per tutto il periodo invernale. Certo, ad occhio nudo non è molto spettacolare da osservare, in quanto appare come un debole oggetto di natura non stellare che si trova sotto le tre stelle perfettamente allineate della cintura di Orione. Consoliamoci però con le spettacolari riprese che ha ottenuto il telescopio spaziale Hubble della NASA, dalle sue prime osservazioni del 1993 fino all'ultima campagna di mappatura ad altissima risoluzione della nebulosa, che hanno permesso non solo di rivelare oltre 3.000 stelle al suo interno e più di 150 dischi circunstellari dove si stanno formando nuovi pianeti, ma di creare accurate ricostruzioni virtuali in tre dimensioni, come quelle che stiamo vedendo. In queste spettacolari animazioni vengono evidenziate le strutture filamentose di gas e polveri che compongono la nebulosa di Orione, la cui caratteristica luminosità è data principalmente dalla intensa radiazione ultravioletta emessa dalle giovani stelle che compongono l'ammasso aperto denominato trapezio, che si trova al suo interno. Orione e la sua nebulosa, dicevamo, sono visibili nel cielo già nella prima parte della notte, verso est. Le accompagnano, sempre in direzione est, le costellazioni dei gemelli, del cancro e del cane minore. Più in basso, rispetto a Orione, troviamo il cane maggiore, con la luminosissima stella Sirio, in assoluto la più brillante del cielo. Alta, verso sud, è la costellazione del toro, mentre più in basso l'eridano e la balena. Ad ovest spiccano i pesci, il Pegaso e Andromeda. A nord-ovest sta definitivamente tramontando il cigno, mentre a nord, attorno alla stella polare, ruotano il drago, cefeo, cassiopea, la giraffa e l'orsa maggiore. Per quanto riguarda i pianeti, Mercurio, Venere e Saturno sono visibili a sud-est, nelle ultime ore della notte, fino all'alba. Per i primi due, il passare dei giorni li porta ad avvicinarsi sempre più al Sole, riducendo progressivamente la loro visibilità. Il modo apparente di Saturno è invece opposto e il periodo in cui è visibile prima dell'alba aumenta. Marte, anche a dicembre, continua a seguire il Sole dopo il tramonto e continua a rimanere basso sull'orizzonte al calar della sera prima di tramontare. Giove invece è nel suo massimo periodo di visibilità. Appare a est in prima sera, culmina a sud e tramonta all'approssimarsi dell'alba. Ricordiamo che il 21 cadrà il solstizio d'inverno in cui la durata del giorno è la più breve di tutto l'anno e infine la luna, che sarà nuova il 13, piena il 28.